Ciao Pietro, so che non ci sei ma, emergenza, non trovo né uno scolapasta, né qualcosa che gli somigli per scolare la pasta. Ah, e l'olio? Si mette prima o dopo il... Accidenti. Ehi, sei nei guai? Sì. Non sarà uno chef come Pietro, ma so spegnere gli incendi. Nella urcia una ragazza che chiede di te. Grazie. Ciao. Ciao. Grazie.